e a Gianrico Carofiglio che è stato un magistrato molto importante. Sallusti. Stanno venendo al petine dei nodi che Palamara in quel libro e non solo quel libro ha raccontato ma che almeno chi non aveva le fette di salame sugli occhi si era accorto che negli ultimi anni c'era qualcosa che non andava nel sistema giudiziario. Stanno venendo al petine. Se Palamara, che è uno che è stato espulso dalla magistratura, è riuscito a scoperchiare quel bidone che nessuno voleva scoperchiare, ben venga. L'importante adesso è non cercare di richiuderlo al più presto e bisogna vedere bene cosa c'è dentro.